1983, il successo di una grande manifestazione che ha radunato migliaia di giovani di tutta Italia Bustock numero 1, Rimini 1986, affollando il palastro comunale di Rimini, migliaia di persone hanno assistito ad uno tra i più grandi afrodoni mai tenuti in Italia Bustock numero 2 Giovedì 13 agosto 1987, a grande richiesta, Renato Curatore e Radio Saturno presentano Bustock numero 3 DJ Estate 87, La Notte della Musica, con TBC, L'Ebreo, Noda, Mozart, Iano, Sprangri Member Music, Valdelli con tastiere, sintetizzatore e music computer Inoltre, altri DJ a sorpresa dal Brasile, Austria, Italia e Inghilterra Gruppi dal vivo come Fire Percussion, Ebreo Group, Special Tom Percussion, Valdelli e TVC Group e molti altri Giovedì 13 agosto 1987, allo Stadio Comunale di Rimini, Angolo Riccione, La Notte della Musica Bustock numero 3, No Stop Music dalle 18 alle 2 Pre vendita, biglietti, stero shop Rimini Per informazioni telefonare allo 0535 82158 In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà al Palasport di Rimini Radio Saturno Studio 90, sognando oltre le note della leggenda Radio 일단, circusà, inoltre, 60 do riflli Radio Saturnoriendale R tabii di triangolo per abajo